Ciao a tutti amici, mi trovo a Pozzuoli, la bellissima Pozzuoli in via Oberdan numero 16 alla caffetteria Malibu dove si gusta un buonissimo caffè, non ci credete? Allora venite con me! Alla caffetteria Malibu potete assaggiare delle specialità uniche, il caffè al ginseng per esempio, buono, energizzante ma senza caffeina Alla caffetteria Malibu, anche consegni a domicilio, il numero è 081 526 4408 Per i locali a cui dai del tu Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi fesse c'era O si può restare soli Certe notti coi Che chissà contenta gode Così, così Certe notti Certe notti sei sveglio O non sarai sveglio mai Ci vediamo Ehi tu, dico a te, non avere tabù E se vuoi fare un peccato di gola, corri alla caffetteria Malibu Ti aspettiamo Ciao Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è Certe notti se sei... Certe notti